parlando di HIV e di persone che vivono con questa infezione virale è molto importante l'aderenza al trattamento se si è aderente al trattamento si può vivere a lungo le terapie sono efficaci e sicure con una buona qualità di vita di aderenza al trattamento e di resistenze eh se ne è parlato anche ieri durante un importante evento HIV parliamo ancora la nuova iniziativa nell'ambito di HIV ne parliamo che è una campagna di sensibilizzazione lanciata già lo scorso novembre promossa da Gilead Science con il patrocinio di sedici associazioni dei pazienti più la società italiana di malattie infettive tropicali e l'Italian Conference on AIDS and Antiviral Research l'ICAR tra l'altro in questi giorni è proprio in corso il congresso ICAR a Roma parliamo appunto di aderenza terapeutica e in particolare anche del di cosa si può fare per aumentarla anche grazie al rapporto medico paziente con il professor Giuseppe Lapadula professore grazie di essere qui con noi eh professore se non si è aderente alla terapia possono insorgere resistenze perché e cosa comporta l'insorgenza di resistenze? Eh purtroppo la terapia dell'infezione HIV prevede la necessità di continuare il trattamento per lunghi periodi o per tutta la vita del paziente per mantenere dei livelli circolanti di farmaco a livello del sangue che siano soppressivi cioè che impediscano completamente la replicazione virale perché quando il virus riesce a replicarsi è possibile che selezioni eh nella propria popolazione delle varianti virali che sono resistenti ai farmaci essere resistenti ai farmaci vuol dire che i farmaci che utilizziamo non funzionano più eh nella eh soppressione del virus nell'inibire la replicazione del virus e purtroppo eh queste queste mutazioni possono accumularsi queste variazioni del virus possono essere additive una sull'altra portare fino alla compromissione dell'efficacia della terapia che stiamo utilizzando per bloccare il virus ma anche compromettere l'efficacia di di farmaci che appartengono alla stessa classe che hanno meccanismi di azioni simili. Questo complica notevolmente la eh terapia dell'HIV perché ci costringe a fare un passo indietro spesso a utilizzare farmaci che abbiamo magari anche abbandonato per colpa degli effetti collaterali del rischio di interazioni e quindi modificare il trattamento eh introducendo farmaci meno tollerati meno tollerabili e magari anche un po' più scomodi che necessitano di una schedula di somministrazione più frequente o o che sono composti da più compresse più più pastiglie eh per costruire un regime efficace. L'altra complicazione che riguarda l'infezione d'HIV è che queste mutazioni, queste variazioni, queste resistenze vengono archiviate nella memoria eh della storia della malattia cioè rimangono probabilmente per tutta la vita del paziente nascoste eh nel proprio sistema immunitario e possono eh all'occorrenza essere tirate fuori nuovamente dal virus qualora il farmaco che eh non ha eh non aveva più efficacia venga di nuovo utilizzato. Quindi questo è una eh diciamo una peculiarità di un' infezione cronica eh come l'HIV che la rende differente dalle altre malattie croniche. Pensiamo al diabete o all'ipertensione o altre malattie del genere eh la mancata aderenza ovviamente non permette l'efficacia della terapia ma non ne compromette l'efficacia futura qualora la reintroduciamo invece avendo a che fare purtroppo con una struttura eh diciamo vivente come un virus eh questa è una importante differenza tra l'infezione cronica e la malattia cronica in generale. Professore cosa si può fare per aumentare l'aderenza al trattamento? Quanto è importante il dialogo medico paziente? Il dialogo medico paziente è sicuramente il fulcro della interazione tra il medico e il paziente, della relazione che si stabilisce tra il medico e paziente è dell'ingrediente più importante per mettere il paziente nelle migliori condizioni possibili per assumere la terapia correttamente. Eh dico questo perché viviamo in un periodo in cui il tempo di interazione diretta umana si purtroppo si eh restringe sempre di più per delle problematiche di difficoltà diciamo gestionale del sotto diciamo la riduzione del personale e anche la necessità di fare sempre più prestazioni e eh diciamo anche avere altri compiti anche compiti amministrativi di registrare le informazioni dei pazienti ma in realtà eh siamo ben consci che è nella relazione con il paziente che si stabilisce la possibilità di metterlo nelle migliori condizioni possibili per assumere la terapia correttamente. Il il dialogo medico paziente serve a comprendersi reciprocamente perché eh è una visione troppo semplicistica pensare che per favorire l'aderenza basti spiegare come va assunta una terapia o come vorremmo che fosse assunta una terapia perché non possiamo esprimere come medici esclusivamente il nostro punto di vista, il punto di vista dei medici. La la non esiste un punto di vista neutro eh che riguarda la malattia e il compito del medico è comprendere a fondo qual è il punto di vista della persona, come lui vive la malattia, quali sono le sue esigenti e solo a quel punto cercare di adattare lo schema terapeutico alle necessità del paziente e diciamo aiutarlo a comprendere qual è l'importanza dell'aderenza e aiutarlo a trovare le giuste motivazioni e a condividere una giusta progettualità eh che lo porti ad assumere la terapia con costanza. Quindi per questo io credo che la relazione medico paziente sia importantissima. Ciò che chiede il paziente a un medico e che ciò cui dovrebbe rispondere il il modo in cui dovrebbe rispondere il medico e aiutarlo a ritrovare diciamo il controllo della propria vita, della propria salute e aiutarlo a ritrovare la propria qualità di vita e introdursi, cioè che si traduca in una vita piena e diciamo socialmente integrata e questo è un po' la base della relazione medico paziente che serve a ricostruire la giusta cornice perché il paziente possa essere aderente al trattamento.